ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video io sono daniele e oggi andremo a vedere come creare una intro per i nostri video su youtube bene ragazzi eccoci al computer andiamo a vedere come fare questa intro vi anticipo che non c'è bisogno di scaricare alcun programma alcuna applicazione perché useremo un sito online direttamente qua su google quindi andiamo su google cerchiamo panzoid e clicchiamo e apriamo panzoid quello che ci interessa a noi è andare su clip maker che ci permette di fare le nostre intro qua come potete vedere nella schermata a sinistra abbiamo la barra degli strumenti qua abbiamo i vari tasti nuovo progetto carica progetto eccetera eccetera e qua abbiamo il nostro piano di lavoro dove la nostra intro prenderà forma il mio consiglio è che se non volete perdere tanto tempo a fare le vostre intro potete usare dei template che sono già stati fatti da altri utenti e quindi basterebbe solo modificare il nome e avrete già la vostra intro pronta per i vostri video ce ne sono davvero di diversi tipi ce ne sono migliaia quindi magari se volete perdere pochissimo tempo massimo due minuti basterebbe appunto scegliere una intro di questa cambiare al massimo il nome avrete già la vostra intro per i vostri video ad esempio vediamo io scelgo scelgo questo qua andiamo opening clip maker selezioniamo l'occhiello così vediamo già il nostro la nostra intro finita andiamo in questo cubo qua a sinistra e cerchiamo le voci testo qua ad esempio ce ne sono due le dobbiamo cambiare tutte e due quindi andiamo a eliminare questo io scrivo daniele cascone uno e due daniele cascone possiamo cambiare il font quindi mettiamo in questo caso questo qua ovviamente dobbiamo cambiare in tutte e due perfetto poi se questo non vi basta e non riuscite a trovare tra le migliaia di template quello che fa per voi potete crearne uno da capo andiamo qua progetti facciamo nuovo progetto usciamo dal sito facciamo nuovo progetto e come prima cosa andremo in questa casella con questa spunta e andiamo a impostare la risoluzione del nostro video io vi consiglio 1920x1080 i frame per secondo in base a come registrare la vostra videocamera e i secondi questa è la lunghezza dei secondi della nostra intro qua in questo caso è 6 secondi possiamo anche bene andare fino a 8 secondi dopodichè andiamo su questo riguardo qua sotto che sono le scene andiamo a cliccare qua su outdoor possiamo selezionare uno sfondo ad esempio c'è questo qua c'è lo spazio c'è la luna piena mercurio oppure Marte o tanti altri template tanti altri sfondi ad esempio io lascio questo qua e andiamo a provare ora andiamo in questo cubo qua dove andremo ad aggiungere gli oggetti primo oggetto da aggiungere è il testo io in questo caso quindi cliccate su testo poi qua su testo cancelliamo clip maker e io metto Daniele Cascone possiamo cambiare il font quindi vediamo metto questo si questo è abbastanza carino la grandezza come vi ho fatto vedere prima qua cliccando qua andando a destra o a sinistra per ingrandire o rimpicciolire in caso la lascio a 14 e lo spessore delle lettere a me non interessa lo lascio più lineare possibile e qua possiamo possiamo impostare la posizione quindi cambiare posizione verso destra o verso sinistra sopra sotto e avanti e indietro in questo caso lo lascio neutro quindi 0 0 0 quello che interessa a me è creare una rotazione quindi vado a cliccare qua sulla timeline in un punto un po' più avanti dell'inizio e vado su più per creare una rotazione in questo caso se vi volete facilitare la vita potete cliccare nell'occhiello per vedere più o meno come viene quando è finito quindi magari aspetta la metto ancora un po' più piccola in modo che rientra nello sfondo e aggiungo una rotazione aggiungo il tipo di rotazione ad esempio magari uno qualsiasi e qua utilizzando il nostro cursore andremo a modificare la rotazione quindi in caso faccio io in questo modo oppure faccio così poi poi se voglio ehm magari tornare indietro quindi creare questo effetto vado più avanti nella timeline clicco qua più avanti e crea una nuova rotazione in questo caso la vado a rimettere a 0 poi se voglio creare un altro tipo di rotazione ancora vado avanti clicco qua vado su più e posso creare un altro tipo di rotazione tipo di questo tipo questa qua ad esempio faccio così poi vado più avanti la faccio tornare indietro magari vado ancora più avanti e gli do l'effetto al contrario quindi così poi se voglio che ritorni nel suo punto neutro posso andare qua di nuovo più avanti cliccando vado più lo porto di nuovo a 0 e ritorna nella sua posizione normale e questo qua possiamo farlo per quante volte vogliamo basta cliccare sempre più avanti creare una nuova rotazione in questo caso faccio una rotazione diversa tipo questa e questa è una vado più avanti lo faccio tornare al punto 0 vado più avanti ancora e faccio l'operazione inversa quindi verso di qua poi vado più avanti e la faccio tornare di nuovo al punto 0 e come potete vedere se riproduciamo la nostra intro i vari effetti vengono fatti con successo ovviamente ovviamente se volete cambiare la posizione io in questo caso voglio lasciare lo sfondo del cielo libero quindi voglio cambiare la posizione andiamo su posizione come sempre col cursore verso destra o verso sinistra regoliamo la nostra la posizione del del nostro nome ed ecco qua che la nostra intro la nostra discreta intro è stata fatta possiamo aggiungere qua andando su questa stella delle altre effetti ad esempio io ho visto c'è questo qua bloom c'è questo qua che mi piace tanto pulse questo qua ci clicchiamo sopra cerchiamo il tempo per quanto deve riprodurre questo effetto mettiamo 3 secondi poi ci sono altri tipi di effetti vediamo ne provo uno così io sinceramente neanche ne so tutti gli effetti perché io come ho consigliato a voi ho usato un template già fatto quindi se volete farlo da capo bisognerà un po' smanettare un po' provare i vari effetti vedere se vi piacciono come funzionano e tante cose varie vediamo c'è alcuno uno qualsiasi tipo vediamo questo non so neanche questo diciamo da una specie di sfocatura ma non mi piace vediamo se ne trovo un altro più carino tipo c'è tipo distorsione vediamo clicchiamo qua facciamo qua amount possiamo scegliere quanto distorce se più o meno in caso lascio massimo a due due e mezzo la densità quindi qua possiamo regolare la densità e qua il tempo per quanto tempo vogliamo riprodurlo vediamo facciamo una prova così andiamo su play e diciamo che la nostra intro è abbastanza discreta magari vorrei aggiungere un paio di rotazioni in più dato che alla fine vedo che rimane molto statico come intro quindi andiamo sempre su rotazione clicco qua ne aggiungo un'altra bene dopo questa basta basta veramente aggiungere una musica possiamo aggiungerla da qua questo sito questo sito non ci offre delle delle tracce audio appunto già all'interno ma dovremmo scaricare delle tracce audio esternamente e quindi selezionare la traccia audio che più ci piace una volta che abbiamo fatto la nostra intro basterà comunque scaricarla da qua sotto e facciamo in modo bilanciato e formato mkv se il vostro programma di editing non supporta questo formato potete usare un convertitore online per convertirlo in mp4 in caso questa intro la salvo e la metto alla fine di questo video se volete andare a vederla appunto come vi dicevo se non lo sopporta usate questo convertitore che si chiama aconverter.com andate qua su video scegliete il vostro file io dovremmo aspettare che scarica questo video ma ne avevo fatto già un altro simile quindi possiamo provare a scaricare quello la quindi il video è questo apro scelgo il file faccio converti ora e una volta che la conversione è stata eseguita vi spunterà qua sotto una freccetta di download aspettiamo insieme che finisce la conversione spero che non ci stia un secolo comunque ragazzi veramente ci sono un sacco di template io vi sfido a trovare un template che non fa a caso vostro perché davvero guardate quanto ce n'è ancora ancora ce n'è migliaia veramente e ancora posso andare giù all'infinito guardate quanto ce n'è comunque il nostro video è stato convertito ora bisogna andare qua nella freccetta del download qua vi chiede di salvarlo in google drive oppure salva su dropbox ma voi andrete invece in questo in questo url ci cliccherete sopra ora arriverà la il video della vostra intro andate qua sui tre puntini sotto e facete scarica date il nome e salvata perfetto e la nostra intro è stata creata certo ora io ho fatto una intro così veloce veloce però se ci perdete un bel po' di tempo potete fare una intro sicuramente molto più bella di questa che ho fatto io io ho fatto tanto per darvi un'idea comunque non è tanto difficile però il tempo si ci perde se non ci volete perdere tanto tempo come vi ho detto usate template cambiate il nome e avete fatto la vostra intro bene ragazzi io spero che vi sono stato d'aiuto spero che la intro vi è piaciuta anche no e se avete domande scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto il video e vi è stato utile mettete un mi piace per non perdervi i prossimi video iscrivetevi e attivate la campanella per me è un grande aiuto se vi iscrivete mi date un gran supporto e mi date tanta voglia per fare nuovi video quindi ci vediamo alla prossima perché prendo per scontato che vi iscriverete al canale e buona fortuna con la vostra intro ciao ragazzi ciao 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 ciao